Ti presento oggi un'opera davvero originale nel panorama artistico rinascimentale italiano in particolare. Si tratta della Maria Maddalena del pittore bresciano Girolamo Savoldo, un'opera del 1535, oggi purtroppo non più in Italia ma conservata alla National Gallery di Londra. Savoldo, questo pittore non molto famoso ma originale, come vi dicevo coniuga da una parte il naturalismo lombardo e dall'altro il colorismo di scuola veneta, quindi crea una sintesi e il soggetto che lui rappresenta in quest'opera che oggi ti presento riscorse un grande interesse nella committenza privata del tempo, tanto che di questo stesso soggetto, vale a dire Maria Maddalena, il pittore ne realizzò almeno quattro versioni conosciute. Andiamola a vedere insieme. Sullo sfondo puoi vedere qua un paesaggio e questo paesaggio ricorda vagamente quello che è la laguna veneta, infatti si vede un braccio, un piccolo lago, un piccolo mare circondato da terra e poi si vedono appunto delle imbarcazioni. Maria Maddalena, qui rappresentata, fu con lei che per prima vide Gesù dopo la risurrezione all'alba della domenica. Il testo ci dice che ancora era buio e la sua vita tormentata, ci dice sempre il Vangelo, che fu liberata da Gesù addirittura da sette demoni e quindi le restituì la purezza dell'anima. Qui il pittore la rappresenta in una posa veramente insolida, come vi dicevo, originale. Infatti è un atteggiamento vagamente sensuale, forse ricordo la reminiscenza del suo passato equivoco. E poi guarda il volto leggermente reclinato e quasi sembra che voglia trovare una posizione comoda che in qualche maniera le favorisca una riflessione, una meditazione. Il testo ci dice che Maria si rega al sepolcro quando ancora era buio. In modo particolare il Savoldo rappresenta proprio le prime, si vede il buio, il cielo buio, ma le prime luci dell'alba che sta sorgendo. E la veste straordinaria della Maddalena, così come anche il vasetto dei profumi qui in basso, sono ancora bagnati dalla luce argentea della luna, che probabilmente ancora si trova nel cielo. E tra questi due poli, c'è tra questa luce del mantello e quella del vasetto, c'è tutta la vita di Maria Maddalena, tutto il suo dramma, ma anche tutto il suo desiderio. Quello che sicuramente impressiona nell'opera del Savoldo è sicuramente lo sguardo interrogativo che ci rivolge, così frontale, così realistico, che ce lo sentiamo addosso, anche se ci voltiamo, sembra che questo sguardo sia impresso nella nostra mente. Sembra forse che Maria Maddalena ci voglia rivelare, regalare un segreto che lei porta nel cuore. Potremmo mettere sulle sue labbra queste parole. Ho trovato senso, una soluzione alla mia vita ferita e disordinata, e questa soluzione è accanto a te, ma non la vedi, è Gesù risorto. E ci incalza con il suo sguardo interrogativo, forse sembra volerci dire perché continui a scappare e a girarti dall'altra parte. La domanda ti resta addosso come lo sguardo di questa Maddalena, appunto, che qua la vediamo ravvicinata. Lo sfuggiamo, forse cercando rifugio in ciò che le sta intorno, infatti, come vi dicevo, si vede la laguna, ma si vede anche qui un muricciolo che allude al sepolcro, questa apertura qua in basso, quindi al luogo che Maria Maddalena, in cui Maria Maddalena va per cercare Gesù, ma non lo trova. Dall'altra parte, invece, qui in alto si trova un arco e dietro quest'arco un buio, un'oscurità, si intravedono un albero secco, ecco qua, e dei ruderi, vediamo appunto dei ruderi, un muro qui sullo sfondo, sono segni di un mondo caduco, stanco, prossimo appunto a morire. E la domanda resta lì, quindi siamo costretti a ritornare allo sguardo della Maddalena. E lo sguardo questo di Maria, che per primo ha visto Gesù risorto e si è sentita chiamare per nome, e ha compreso che solo quella voce così dolce, così persuasiva, poteva redimere tutto il suo passato di errori, di fallimenti, di povertà, di amore ricercato negli uomini e non trovato. Vorrei lasciarti, proprio guardando, ammirando questa Maddalena, o meglio lasciandoci guardare da lei, un pensiero che ho trovato in un libro di Kail Gibran, che parla proprio della Maddalena e mette in bocca a lei queste parole. Io ero morta, ero una donna che si era separata dalla propria anima, vivevo separata da questo io che tu vedi adesso. Ero chiamata prostituta, maledetta, invidiata. Quando i suoi occhi dell'aurora mi hanno guardato negli occhi, sono state illuminate tutte le stelle della mia notte, ed io sono diventata Miriam, semplicemente Miriam. Mi guardava e parlava. Tu hai molti amanti, Miriam, ma solo io ti amo. Gli altri cercano se stessi amando te. Io amo te solo per te stessa. Gli altri vedono in te una bellezza che passa più velocemente dei suoi anni. Io vedo in te una bellezza che non sfiorirà mai. Io solo amo ciò che è in te e che non si vede. E si è allontanato. Nessun uomo si muoveva come lui. Era un vento del mattino che è nato nel mio giardino e si è spostato a oriente. O era una tempesta che ha scosso ogni cosa fin nelle fondamenta. Non lo so, ma quel giorno l'alba nei suoi occhi ha ucciso il drago che era in me. Sono diventata una donna. Sono diventata Miriam. Miriam di Magdala. Grazie ancora per la tua attenzione e arrivederci al prossimo video.